Gli aveva indotti a vendere appartamenti e opere d'arte di pregio al di sotto del valore di mercato e gli aveva pure suggerito operazioni finanziarie spericolate come convertire in lingotti d'oro diverse liquidità dai conti correnti. Così la guardia di finanza di Pesaro ha scoperto una truffa ai danni di una coppia di coniugi pesaresi che aveva fatto fortuna nella scena cinematografica romana. Lui come regista e sceneggiatore, lei come produttrice televisiva. Scena romana in cui i due consorti si sono affidati ad un quarantenne che millantava capacità nel trattare questioni finanziarie e a quanto pare anche enormi capacità persuasive. Tant'è che i due coniugi si sono affidati incondizionatamente all'uomo in questione dandogli carta bianca per un piano di risanamento economico. E così è stato venduto un raffinato appartamento romano, opera d'arte nonché spericolate operazioni bancarie. Una fede mal riposta perché i due artisti si sono ritrovati depredati di proprietà immobile e di liquidità. Il sedicente consulente si è reso irriperibile ma non all'occhio della guardia di finanza di Pesaro che assieme al tribunale di Roma è riuscita a incastrare il truffatore e recuperare il maltolto. Al termine delle indagini è stato quindi possibile recuperare l'intero patrimonio sottratto attraverso il sequestro delle quote societarie e degli immobili di proprietà delle vittime, del valore di circa 2 milioni di euro.